Mister, una vittoria sfumata nel finale al termine di un match sofferto. Sì, sì, indubbiamente. Stavo dicendo prima al collega, la Torrese comunque ci ha prestato nella nostra metà campo. Abbiamo fatto fatica ad alzarci, anche e soprattutto per merito loro. Poi, specialmente nel secondo tempo, siamo calati un po' fisicamente, visti che siamo sempre gli stessi dalle ultime 8-9 partite, quindi fai fatica. E niente, poi nell'ultima azione c'è stato questo rigore. Il calcio è così, la potevi chiudere sul 3-1, ma come loro potevano fare gol prima? Avete perso il primato, ma fate parte comunque di un quartetto di testa con quattro squadre nell'arco di un solo punto, vicinissime. Ma noi sappiamo qual è il nostro obiettivo e ce l'abbiamo bene in mente. Prima lo raggiungiamo e prima ci finiamo di divertire. Quindi oggi venire a fare un risultato positivo contro un'ottima Torrese, io posso fare un plauso ai miei perché mi aspettavo una reazione dopo la sconfitta di mercoledì e io sotto questo punto di vista sono soddisfatto. Grazie. Mister Cristofari, un match dominato ma riagguantato solo nel finale. Sì, hai detto praticamente tutto tu, una partita che siamo andati sotto con un episodio particolare. Dopodiché la mia squadra si è messa a macinare il gioco, abbiamo creato secondo me tanto. Coppello è stato bravo a tenere botta, noi però è una costante che non riusciamo a concretizzare le notevoli palle e golle che facciamo. Siamo addirittura andati sotto di 2-0 su un episodio secondo me abbastanza dubbio per così dire. Però la squadra non si è disunita, ci ha creduto fino alla fine, siamo riusciti comunque a portare a casa un punto che fa morale, che muove un pochino la classifica. Certamente i tre punti erano un risultato molto più importante però ci prendiamo il risultato del campo. In ogni caso è arrivata una bella reazione dopo il passo falso di Penn. Sì, avevo detto ai ragazzi che la partita di oggi, giocata contro la capolista, avrebbe portato sicuramente molti più stimoli. Una partita sicuramente bella da giocare, quindi c'è stata una buona reazione. Per quanto riguarda la prestazione non ho nulla da recriminare ai ragazzi. Certo è che quando si crea così tanto il dispiacere è tanto per non portare a casa il risultato pieno. Grazie.